A regolamentare i comitati di quartiere presenti sul territorio cittadino riconoscendo loro una ruola importante nelle attività di scelta e condivisione delle decisioni della pubblica amministrazione è quanto chiesto dalla giunta comunale e i rappresentanti dei comitati si sono dati subito da fare hanno già predisposto una bozza creando delle vere e proprie aree Per dare un riconoscimento giuridico ai comitati di quartiere quindi già questo è un primo passo importante e in secondo luogo perché abbiamo anche lanciato la proposta e il bilancio partecipato quindi la delimitazione di nuove aree urbane consentirà di dividere queste somme nel caso di regolamento che sia approvato fra tutte le nuove aree urbane e quindi permette alla cittadinanza di partecipare attivamente alla gestione e nelle scelte per quanto riguarda le somme da investire per la manutenzione di tutti i quartieri Questa è la vostra idea che poi dovrà essere soffragata dal Consiglio Comunale? Proprio per questo noi lunedì presenteremo ufficialmente questa bozza al Consiglio Comunale consegnando appunto la nostra proposta al Presidente del Consiglio Comunale successivamente chiederemo di incontrare tutti i capigruppo così da esporre loro la nostra iniziativa e sperare insomma che tutti i consiglieri accettino questa volontà perché è una volontà che parte dal basso del popolare Dunque una vera e propria partecipazione popolare che rappresenta la democrazia partecipata della comunità Saranno inglobate praticamente non le chiameremo più dei comitati ma le chiameremo delle aree perché avranno tutti lo stesso diritto tutte quelle che fanno parte in quell'area e quindi non ci sarà nessuna condizione nel senso di dire ma io sono in più, sono in meno come numero di popolazione Noi stiamo cercando di fare questo perché in realtà vogliamo lasciare qualcosa di buono dal momento in cui non ci saremo perché giustamente dopo ci saranno le elezioni regolarmente quindi ci sarà una procedura e poi la partecipazione per quanto riguarda i comitati è una cosa molto seria una cosa che non si è mai verificato nella nostra città Ma questo cosa vuol dire? Che cambierà anche la denominazione del quartiere? No, può dire che vive nell'area di Cocarubazzo come Mambria, come Machitella però può dire benissimo che sono nell'area numero 1, 2, 3 quindi non ha nessuna difficoltà di poter inserirsi in quell'area oppure denominarsi per come appartiene nella propria area Adesso tocca al Consiglio Comunale dare il benestare Sì, ora la palla passa a loro Speriamo che i consiglieri accettino la volontà popolare perché sostanzialmente noi come comitati di quartiere all'unanimità abbiamo approvato questa bozza L'agenda spinge perché comunque ci fanno pressioni al riguardo perché sentono che non importa nessuno di partecipazione quindi spero che sia un'occasione e che tutti i consiglieri colgano e portino avanti Grazie a tutti